Benvenuti a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Destroyer733 Nuova presentazione con un secondo in ritardo Allora, siamo su Day Truder e prima di iniziare, ho tutta la tastiera sporca prima di iniziare, vi devo dire un paio di cose Allora, l'ultima volta, vieni non lo potrò registrare perchè non ho fatto in tempo e Day Truder pensavo di aver fatto un solo episodio ma sto facendo un secondo perchè mi hanno detto come proseguire Allora, io mi farò vedere subito Allora, si si La roba porno Skip dentro Ah Ok Allora Dobbiamo andare qua Andare Io lo so, lo so come bisogna fare Praticamente a quel lucchietto A quel lucchietto dove non riusciamo a trovare la combinazione La combinazione o è 20-10 o è 10-20 Quindi noi andiamo a testare Perchè mi ha detto come provavo 20-10 o è 10-20 Vabbè Da qui in poi dovrebbe capitare al gatto cosa che non mi è molto utile No Ok 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 tu sai che sei dentro miau 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 ho mia curato perfettamente si devono tipo muove perchè vi devo far vedere dell'occhietto si sei bellissimo se compare il gatto ok ok kitchen vai avanti ah il 20 ho ipotizzato io che sia tipo ah è ottobre quindi 10 e 20 è compleanno di sara vedete quindi potrebbe essere perfettoso allora ma non te gira voglio non te gira vai avanti vai vai avanti sei bellissimo intanto io lo devo ok proviamo allora ecco il gatto proviamo no questo fa 20 poi 10 sopravvisti così quindi incorrect allora è 10 20 10 20 sì 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 dai allora cosa abbiamo qui ok le scale vedete 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 che da ti vedete si è andato, l'idioto se n'è andato se c'è saluta la cosa in casa l'halloway non so cosa sia, si si tutti i notti da qui e c'è lui quindi tutti i giri vai dai giri ok va indietro no, l'halloway è andato, l'halloway è andato, ora in la cucina si, l'halloway è andato, l'halloway è andato, che cosi oh dio un po' aumentare, un po' aumentare l'halloway è andato per l'esco ok, non mi sta a scoprire, sono andato tutta la schiena non mi sta a scoprire, dai mamma mia che genio che so poi l'halloway è studissimo ma chi è? sexy allora computer oh bellissimo posso andare su facebook dai, allora non vado non vado stand by ok, telefonino are you okay? look at myself bbbb si si, lui è di myself allora posso bere? va, allora qui c'è non c'è niente oh no pur scott ah è scott lui bene scott scott è un po' morto però no perchè è beccato salto perchè se è così quindi non è girato entra to the office ha dov'è andare avanti vabbè vediamo cosa succede qua davanti vabbè vediamo cosa succede qua davanti non succede una cosa molto carina scusate non lo sto registrando si anche da 6 minuti non controllo spesso se sto registrando perchè sono 6 minuti che ripetere allora noi dobbiamo provare un modo girate e vediamo che trovi ok ok non c'è niente to the hallway la stessa cosa di prima raga non riesco a trovare la sara's bedroom non c'è niente non c'è niente vabbè allora ok ci sono due stazze la office e la stessa vediamo ok ok guarda che piace all'intruder no non ci sto capendo nulla the desk va bene una penna ordinaria ok 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 c'è un cavilo tutto replay happy halloween no perfetto ce li proviamo ancora vado qua vado al garage entra nel garage un'altra batteria attenti ai gatti perchè sono figli di puttana ok via la torcia dentro tutto qua no cioè no tutto a posto finalmente poi fai coglione massimo via la torta via la torta poi girare i metodi Vai per qua Smadonna contro il gatto Corna tutto Quindi ci dovrebbe stare quello brutto che ti guarda Infatti sta là Allora Il gatto ormai mi fa poca paura Mi fa solo tre mani in mani Allora com'era? 20 10 Ok Non c'è il canso di fare un collino Non c'è altro che un collino Sì, da te Allora 20 10 Adesso c'è mal lì Ok 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 Adesso c'è il vento Vedete che mi sbaglio sempre Ok Ok Vai di su Qui non c'è il vento Attraattiva puremente E il coglione se ne va Turn around E sai di escava E siamo il dronai appunto Che non c'è il vento Che non c'è il vento Gatto Bastardo gatto Ah To the way Back outside to the office Allora noi dovevamo di poco Ok Cogliola Il vento Il vento Come in A Vado sotto Guarda che bella mano Mamma mia quanta sexy Allora aspettiamo quel seno Ok Allora No, ma proprio assolutamente, dobbiamo trovare in un altro modo, servirebbe, to the lounge, ok, to the lounge 1, a tv cabinet. Intelligente, molto intelligento. Cioè, è un'intelligenza sovrumana, c'è, vantana, già sono morto una volta. To the hallway, e so di morbo. Allora, dove adesso devo andare? To the bathroom, peccato che la bando di oggi. Ok, perfetto. Non c'è sto cadendo un cazzo. Dobbiamo a passare da davanti. To the kitchen, e the kitchen. The back entrance, e the kitchen, ok. Allora, io mi sa che ho capito. Terzo, poi. To the lounge, giri te. Ok, vai avanti. Ok, praticamente, però. To the kitchen, e mi sa che c'è, sia la parte di qua, lo so, va più vivo. Adesso sta così, te giri. To the kitchen. To the kitchen, è così. E poi di qua. No, al cazzo. Perché pensavo, che visto, l'avete visto, si può andare all'altra parte, allora pensavo via. Ma resti anche per... Allora, quindi no. Non riesco a trovare un fottuto modo. Io non so, non riesco più a me accorcire. To the side. Girate, e vai avanti sparate. Ok. Rue back, rue back. Poi ci vuole alla porta come un po' lì. No, 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 no. Andiamo sulla... The Scott and Sarah bedroom. Iserva la chiave. Ah, la chiave è passata. Io li non ci posso andare. Ah lì mi sa accendere la tv e moro come un coglione, put it away, no, gira, no, back up side, no, ah no. Andiamo il messaggio, from Sara's phone, read, read, 21.32, so del 14.37, ma c'è un po' di ritardo ragazzi. Oh c'è ancora la mappa, ah ah, divining pantry better, ok, WC, laundry, kitchen, cellar, divining launch, ok, allora mi devo rientrare un po' con la mappa, non più niente, go back, i copioli non lo tocco perché se no mi cura, no, pensavo mi abbia un cassetto qua con me. Ok, girate, oppure aspetta, mi sto rompendo le palle, lo so, lo so che mi sto rompendo le palle, però, no, niente, niente, non c'è, non trovo un cazzo. Allora, allora, non riesco a capire, allora c'ho la torcia, però è vero che però mi pensa cosa è abbastanza dunque una torcia. Girati. Ok, niente, niente. Ah-ah. Andavo to the loot. E se tu vai to the hallway, vai avanti, dovete in cura perchè vedi che sta qua, quindi non possiamo mandarla Ciao troia, devo trovare la soluzione Sto ristrando anche da 14 minuti, piuttosto che non stai ristrando Sì Allora Vogliono chiari Le lounge Ah lì c'è cosa sulla tv o no? Ok Molgisati e vediamo che succede To the pantry and kitchen Ah da qua c'è la cucina To the pantry Andiamo alla pantry Pantry lì c'è la Andiamo sulla cella allora E sotto Ok c'è una bottiglia Beviamo Dai ubriachiamoci Tanto uomo dirai Allora tu sei in a pantry Ah ma mi sarei detto che io dovevo seguire la mappa C***o che so Il mio cane sta mangiando delle ossa Allora Sali fu Esci E regoliamo se poca costa c***o delle mappa Allora Allora Al bagno non ci posso andare perchè nell'ultimo episodio mi ha insegherato per qui Ok Allora li do andando dall'altra parte penso Vi spero Che qui si va davanti Dove sono definamente perfetto Mammo di E allora lì perchè non mi fa andare qua No Sia Ehm Andiamo un po' più avanti Allora No Non si Aspettate che Ok Il mio cane abbaglia random Penso Spero Ok Allora Gira di c***o 16 minuti Di inutilità Allora The way La non ci posso andare perchè posso vedere come la mappa è P*****o è l'unico modo per andare Non c'ho la soluzione Non c'ho la soluzione Non c'ho la soluzione Non c'ho la soluzione No Dove è la porta che mi ero immaginato? Ok Infezzate Eh Pensavo stanno succedendo Stava volando qualcuno perchè con le cuffie non ci sento Un portello magari posso infezzare due Ok niente Non posso fare niente Non capisco cosa devo fare C'è Non me lo posso affortellare Non è possibile Verrà un c***o Un c***o Un c***o Un c***o Allora quella mappa Un c***o niente Un c***o Niente Cause Va bene Ma Un c***o Un c***o sento dei rumori di fuori quindi più o meno mi metto allora si io tipo eh da qua ti andavo tutto sparato avanti farò subito ma io ci dovrei mettere un bagno qua con io go back però per andare avanti ah lui sta al bagno ok ma non la dovrei tipo portare verso l'avanti nooo allora qua guarda il cazzo va bene questo gioco non credo ora non sono anche realmente ruffi questo gioco non credo che lo continuerò perchè non riesco a trovare un modo però più o meno troverò non vi preoccupate non resteremo senza giochi allora come sempre lasciamo un commento aspettate ok come sempre lasciate un commento mi piace mi stanno chattando su steam ciao 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 allora